Presidente, una lettera che chiede 110.000 euro al Tennis Club, una lettera inviata dal Comune. Questi 110.000 euro voi li darete? Che cosa sono? Perché vi hanno chiesto questi denari? Allora, assolutamente noi abbiamo preso posizione rispetto a questa missiva che è pervenuta da parte del Comune. Abbiamo convocato oggi questa conferenza stampa per un semplice motivo, perché riteniamo assolutamente fuori da ogni norma questa richiesta e anche perché, questo è un dato certo, il Comune si contraddice, perché il 6 settembre avevamo fatto una conferenza di servizi con i dirigenti e con gli organi politici, eravamo usciti da lì con un protocollo di intesa per una gestione temporanea, dicendo ovviamente, ribadendo il principio in forza del quale il bando deve essere fatto e oggi c'è pervenuta questa missiva, ovviamente chi l'ha scritta si assumerà le responsabilità. Il Tennis Club è l'unica associazione preposta a organizzare il Challenger. A questo punto, in questo clima di grande confusione, cosa accadrà? Ivano Aquilina, che è responsabile del Challenger, ha detto che già ci sono stati alcuni sponsor che hanno fatto un passo indietro. Il rischio concreto che il Challenger per il 2019 non si possa fare è reale, perché in questo clima di incertezza, in questo clima di confusione generato chiaramente dal Comune, gli sponsor ovviamente non hanno la possibilità di dare una certezza al loro investimento e quindi questo ovviamente non fa altro che mettersi incontro l'organizzazione del torneo stesso e quindi noi faremo di tutto per cercare una collaborazione con il Comune per avviare la macchina organizzativa, ma i tempi sono molto stretti e questa condotta assunta dall'amministrazione certamente non rende le cose facili. Avete dato mandato a un legale di Catania, lei ha detto durante la conferenza stampa che provvederà a rispondere a questa nota del Comune. Assolutamente, noi oggi abbiamo dato un dato di natura sociale, abbiamo dato una risposta di natura sociale nel senso che riteniamo che il Comune abbia violato il principio pacta sunt servanda. L'abbiamo fatto solo per dare una compostezza a quello che è stata la nostra condotta di collaborazione. È ovvio che non possiamo più rimanere inerti, abbiamo dato in carico all'avvocato Grazia Maria Tomarchio del Foro di Catania che già sta predisponendo la risposta a quella che è una lettera che in questo momento da un nostro punto di vista non ha nulla di giuridico. Il bando sarà pubblicato a breve, voi parteciperete? Ma intanto bisogna vedere quali sono i requisiti del bando, intanto bisogna vedere come è stato strutturato il bando e soprattutto poi dobbiamo valutare se abbiamo le possibilità per poter partecipare perché comunque dobbiamo valutare anche l'aspetto non soltanto normativo ma anche l'aspetto economico. Questa è un'associazione no profit che ovviamente riesce ad autofinanziarsi con quelli che sono i piccoli contributi che ciascun socio riesce a dare quindi bisogna vedere se l'offerta economica che richiede il Comune anche sotto un profilo normativo possa essere alla portata del Tennis Club Caltanisset.